Un trend positivo e in costante crescita che premia le scelte del gruppo PubliM e conferma quanto il gradimento da parte dei calabresi verso l'offerta del network La C vada sempre più consolidandosi. Anche nel mese di marzo 2018 la CTV è stata la televisione più vista in Calabria per ascolti medi e a questo dato si affiancano le crescite costanti delle testate web la CTV.it, la CNews24.it e il Vibonese.it. Incrociando i dati di questi mesi infatti sia quelli relativi all'Auditel che quelli relativi a Google Analytics dei siti di informazione, si conferma il trend di crescita e il numero sempre maggiore di telespettatori e utenti che scelgono la nostra offerta di intrattenimento e le nostre piattaforme news. Un gruppo importante, spiega l'editore Domenico Maduli, che evidenzia chiaramente quanto il pubblico calabrese e non solo stia apprezzando il progetto La C che oggi rappresenta nel panorama dell'informazione e dell'intrattenimento regionale una realtà con un trend di crescita organico e consolidato. Il dato che il gruppo e le singole direzioni di testata hanno colto con entusiasmo dimostra che la strada percorsa è quella richiesta dal mercato e dagli spettatori. Per questo motivo il network La C continuerà a puntare su prodotti di qualità e produzioni originali legate al territorio, alle sue bellezze e alle sue complessità, per confermarsi ogni giorno di più il network di tutti i calabresi. Erika Cunzolo per la CNews24 Erika Cunzolo